segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te o no sì questa è una cosa buona ma cerchiamo di io l'ho sempre poi detto a me fa molto piacere che ci siano due donne ma io preferisco un uomo di cui condivido le idee ad una donna della quale non condivido le idee quindi misurerò il giorgia meloni su quello che fa e già quello che ha fatto insomma un po mi preoccuparsi mi preoccupa molto il governo di questi mesi perché al di là dell'atlantismo che gli consente poi di fare quello che vuole in italia sta facendo sta facendo danni a mio avviso grandi e la stessa cosa la dico per ellis line non so contenta che ci sia una donna ma valuterò quello che fa valuterò la sua capacità per esempio di di tenere non le correnti ma le culture del partito grazie rosi bindi devo salutarla perché a questo punto quattro minuti cinque minuti diciamo mi chiudono direttamente grazie davvero